ciao ciao ragazzi com'è stata innanzitutto come va? bene bene com'è stata? la partita è incredibile che noi abbiamo dominato nei primi 20 minuti andando più 17 poi loro hanno messo la bomba nel meno 14 allo scadere del ventesimo di Tabella però avevamo veramente dominato, anzi la partenza 5-0 per loro, siamo partiti un po' contratti poi abbiamo dominato, poi nel terzo quarto, a metà tra terzo quarto e quarto quarto abbiamo avuto un blackout pazzesco pazzesco, adesso non mi ricordo ma penso che avremmo segnato 4 punti, 5 punti in 10 minuti facendo palla e tiro, sbagliando anche qualche tiro veramente da solo, però poi quando perdi il ritmo sbagli tutto e poi a un certo punto lo sono andato più 5, più 6 non mi ricordo, poi i ragazzi hanno stretto in difesa hanno fatto quei due recuperi che dovevano fare hanno fatto quelle due penetrazioni che dovevano fare l'abbiamo portata all'overtime avevamo la palla per vincere al quarantesimo l'abbiamo un po', c'è scappata c'era molto caldo qua dentro, si scivolava, si sudava c'è scappata proprio la palla e poi all'overtime a 30 secondi alla fine erano più 5, 95-90 loro segnano la bomba da 10 metri sulla rimessa perdiamo palla e fanno i 95 pari mancano 10 secondi e la tela mette la bomba da 3 a proposito di questo si è preso un tiro da 3, si è preso responsabilità quello che deve fare, l'ha fatto e l'ha fatto bene, però suppongo mi ha scritto diverse volte io voglio fare complimenti per questo in giro certo l'ha fatto bene anche se l'ho sbagliato perché in giro sento anche voci che qualcuno non troppo non dentro di noi ma non troppo neanche lontano che dice che è un po' senza palle invece si è preso il tiro poi lo poteva anche sbagliare ma ci vogliono le palle l'ha dimostrato poi l'ha anche segnato a proposito di palle ma quelle da basket ti leggo il commento del mio amico Federico Strati che è un nostro amico comune che mi scrive Domenico Latella ha fondamentali da Serie A quando conta si è preso la palla e ha messo la tripla della vittoria penso sia la sintesi estrema di un giocatore probabilmente che funziona questa è la sintesi però poi la partita è durata 45 minuti Domenico ne avrà fatti 37 e ancora non ce l'ha quindi lui ancora non ci dà in difesa quello che ci può dare e quindi adesso sono queste partite in cui dovrà fare uno sforzo in più lo so che per lui è faticoso perché giustamente è stato molto fermo però lui cioè è ancora più forte di quello che che dimostra è ancora più forte di quello che dimostra è anche vero che bisogna essere onesti cioè noi siamo più forti di Cosenza non bisogna nascondersi ho passato una un'annata a dire che noi siamo più scarsi delle squadre con cui abbiamo giocato ed era vero ma rispetto a Cosenza no rispetto a Cosenza siamo più forti e l'avevamo anche dimostrato in 20 minuti poi ci sono scorie che ti porti da due mesi di filosofia e filosofeggiare e poi queste scorie possono diventare un incubo era quasi diventato un incubo perché poi noi a tre minuti alla fine era così eravamo sotto di cinque di sei l'inerzia era totalmente da loro questa è la realtà poi in difesa e soprattutto con l'apporto di Fabio Fazzari Fabio Fazzari ha fatto sette otto punti tra la fine del quarto quarto e l'overtime facendo una bomba due canestre da due un assist per Michele nell'overtime cioè poi alla fine quando contano questi ragazzi ci sono anche sono felici anche per Fabio ovviamente ma per tutti dai siamo felici per tutti complimenti di Francesco Nicosia per questa vittoria che è è una vittoria a bastiare nel vostro cammino adesso bisogna continuare così certo certo ma chiaro ma noi siamo una squadra nata per salvarci noi a febbraio siamo nati per salvarci poi c'è stato un mese di un mese due mesi anzi di filosofia dove c'era di tutto un po' di più però poi questo se ne parlerà a fine campionato quando saremo salvi ancora ci dobbiamo salvare questo è importante ovviamente perché andiamo più due da Caserta adesso sarà fondamentale vincere contro Cercola e non sarà facile e non sarà facile perché Cercola si giocherà la salvezza anche lei ed è una squadra tostissima che combatte non ho capito ed è una squadra tostissima che combatte forse dal punto di vista l'agonismo degli altri noi abbiamo realtà realmente delle difficoltà difensive realmente le difficoltà difensive siamo una squadra che regala dieci punti a partita dieci punti a partita contro tutti possiamo giocare anche contro una squadra della prima divisione turca o ungherese noi gli regaliamo dieci punti comunque cioè regalare nel senso che quello va a canestro senza uno che aiuti senza abbiamo tante difficoltà difensive infatti abbiamo preso subiamo sempre tanto è anche vero che da un bel po' segniamo tanto segniamo tanto e quindi questo ci aiuta grazie mille che ecco buon rientro sì ciao ciao aspetta io volevo fare un saluto volevo dovevo volevo e dovevo salutare a Fidel a Mattia a Gioia e a Flavia va benissimo salutiamo tutti loro grazie mille e io pro